Energia e tanta passione sono gli ingredienti del successo dei corsi Scuola Piccolecco dedicati ai bambini delle primarie. A dimostrazione del gradimento dell'iniziativa, i numeri, oltre 1500 studenti coinvolti per 400 ore di attività. Il progetto si articola in due parti, uno di esercizi motori per i bambini di prima e seconda elementare e uno più tecnico di avviamento alla pallavolo per la fascia 8-10 anni. Per i piccini proponiamo giochi basici con la palla e di coordinazione, spiega Flavia Tavola, responsabile del progetto, mentre i grandi possono cominciare a cimentarsi con il nostro fantastico sport, imparando la schiacciata, la battuta, il palleggio e il bagger. Il progetto è il suo quarto anno di attività e, malgrado la pandemia, ha riscosso grande adesione nei comprensivi di Lecco e in Valsassina, un'iniziativa che ha arricchito anche gli insegnanti che potranno riproporre ai loro studenti gli esercizi del team Picco. Ci tengo a sottolineare il lavoro fatto negli anni scorsi e tuttora dalla mia squadra di collaboratori, prosegue Tavola. Con questo progetto i bambini hanno modo di sperimentare, conoscere e avvicinarsi alla pallavolo. Un successo promosso da tutto il team della pallavolo Lecco, Alberto Picco. Crediamo molto in queste iniziative, commenta Luisella Milani, responsabile del settore giovanile Picco, e le riteniamo un valore aggiunto per la nostra società. Mi sento di ringraziare, conclude, i nostri tecnici che con tanto impegno svolgono questo compito.